per Luca Abagnale, consegna la ruota di Stato. Terzo classificato, Davide Cuglieri. E adesso siamo sui due gradini del podio con il primo e il secondo che vincono lo stage di vola vena presso il sessantesimo storm di Guidonia. Al secondo posto per il corso di cultura, grazie, città, credito, Altea Pondelli. Grazie. Grazie. Siamo al primo classificato, Pierfrancesco Costano. Grazie. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie. 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 Grazie.